Si è chiuso il calcio mercato, vediamo chi ha fatto i più grandi affari, vogliamo dare un voto a chi ha fatto gli affari più importanti Iniziamo dalla Lazio con Matri Più che Matri l'affare più importante l'ha fatto con la Nardi La tua amica che hai incontrato a Formentera gli hai detto facciamoci un certi e gli hai messo il telefono in mano Cioè gli hai detto Purtroppo Dai Cioè nel senso comunque è lei che reggeva il telefono Non è da tutti No Perché di solito il fans regge il telefono Ci reggeva tutto da solo, girando le camera, le cose Vabbè, allora Poi l'Inter ha preso Melo e gli Aic Come giudichi? Ma giudico un po' quello che ha fatto prima E io vedi, cioè con Dubbià e torna Palacio Quindi è pronta? Secondo me È pronta? Secondo me l'Inter quest'anno È la favorita? Si è una lotta con la Roma Con la Roma, vabbè Hernanes alla Juve Beh, il centrocampo che abbiamo visto domenica Era un po' scarso qualitativamente Però ricordiamo che mancavano Chiedira e Marchisio Hernanes è un titolare Ma farà, ma giocherà fino a che non tornano questi Poi farà Poi si accomoda Poi la padevina è strurata Quindi non lo giudichi un colpo proprio al top È giusto perché ci serviva qualcuno a centrocampo Hernanes all'Inter serviva più al cavolo Ok Il Napoli Ha provato a prendere Soriano poi? Che non serviva al cazzo Soriano Allora l'ha fatta Secondo me se ti ho messo d'accordo Due cinepanettoni hanno fatto tutte e due insieme Chi ha fatto il cinema Chi ha i sale Hanno fatto una bella Hanno fatto i sovi di gnoio Hanno fatto i renecchere Diciamo che il Napoli Ci ha provato 20 milioni per rugani 25 per romagnoli A prendere un difensore buono Non ci è riuscita Non ce l'abbiamo lì Perché poi quello serviva Centrocampo tutto sommato Stiamo bene o male Stiamo in posto Quindi diciamo che Per quanto l'Aventis Può stesse criticato Lui ci ha provato La Roma tra gli Aicce e i Turbe Ha scelto i Turbe Ha fatto bene? Ha fatto benissimo L'anno scorso Corello è stato sempre infortunato Secondo me Ha grosse qualità Se va come sembra È entrato domenica 10 minuti Ha fatto che subito Ha fatto uscire a Guepi Ma io che dico? Lui da una parte Gli ha fatto anche dall'altra Se noi sta là Si accomoda un panchino E siamo tutti più contenti Ah sì? Addirittura Tu lo sai come la penso Su sta là no? E voi che ne pensate invece? Su tutto quanto Su tutto quello che abbiamo detto Che ne pensate? Ah poi c'è Borriello Che dopo mesi Di trattative Che bisogna fare Mesi di trattative E non riesco a parlare Cunaccarpino Ecco Chiudiamo Chiulciopazzo chiude qui Arrivederci Grazie Grazie a tutti